Giuseppe Mizi fu vittima di mafia e il suo omicidio fu premeditato. Lo hanno stabilito i giudici della Corte di Assise di Appelo di Bari, che hanno condannato alla pena dell'ergastolo il boss del clan di Cosola, Antonio Battista, mandante dell'agguato, nel quale per errore fu ucciso Mizi il 38enne, ferito a morte il 16 marzo 2011, a pochi passi dalla sua abitazione nel rione Carbonara. Nel processo di appello bis i giudici hanno riconosciuto l'aggravante della premeditazione condannando l'imputato, già riconosciuto responsabile dell'omicidio volontario con l'aggravante mafiosa, alla massima pena. Il boss ordinò ai suoi di rispondere ad un agguato subito uccidendo un uomo, il primo che capitasse del clan rivale Strisciuglio e quella sera per errore Emanuele Fiorentino ed Edoardo Bove spararono a Mizi scambiandolo per uno spacciatore. I due esecutori materiali sono già stati condannati con sentenza ormai definitiva rispettivamente a 20 anni e a 13 anni e 4 mesi di reclusione. In primo grado il boss Battista, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, era stato condannato all'ergastolo per omicidio volontario premeditato con l'aggravante mafiosa. In appello la condanna era stata ridotta a 20 anni per esclusione della premeditazione. La Cassazione aveva poi annullato con rinvio quella sentenza ed ora la pronuncia dei nuovi giudici d'appello ha confermato l'originale impostazione accusatoria.